Signori, Sotto il segno del pericolo, un classico film che non invecchia mai, a parte i telefonini e gli schermi dei computer, questo film si potrà vedere per sempre, è fatto bene, ha una bella storia, è un bel film, voto 8.2, consigliatissimo, al momento è su Team Vision in chiaro, però vi lascerò il solito link. Un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao!